Ciao a tutti, altra operazione in uscita per la Ternana ufficiale si tratta del centroavanti Spalluto che ha rescisso il prestito nei confronti della Ternana, cioè il prestito tra la Fiorentina e la Ternana perché è un giocatore di proprietà della Fiorentina che ha rescisso il prestito con le Fere e rescindendo il prestito con la Ternana Spalluto è libero di accasarsi altrove e c'è l'ufficialità nelle ultime ore che Spalluto è effettivamente un giocatore del Novara, il proprio giocatore del Novara, per cui altra operazione in uscita per la Ternana dopo quella di Celli e dopo la probabile operazione di Stefano Pettinari per cui un altro giocatore lascia le Fere e si tratta di Spalluto per quanto riguarda il fronte mercato, il calciomercato della Ternana è un po' vincolato per via di posti over molto limitati, cioè la lista over è piena sostanzialmente la lista under no perché sono illimitati ma la lista over è piena quindi quelli sopra a 23 anni, per cui è molto limitata il calciomercato della Ternana è un po' bloccato da questa lista over piena per cui bisogna fare un po' un'uscita ed un'entrata e staremo a vedere, per cui ci sono già diciamo delle probabili trattative cioè se lascia Pettinari arriva l'attaccante Sposito e se lascia Bruno Martella arriva Donnarumma del Cittadella, il terzino del Cittadella per cui vedremo se si cedono questi due giocatori per cui vedremo cosa succederà nel frattempo però c'è già la prima partita di campionato in programma c'è la prima partita di campionato in programma del 2023 c'è quella di Ternana Ascoli di Dopenica 15 come tutti sapete è iniziata la pre-vendita e siamo a quota 3.000 spettatori per il momento 700 ospiti da Ascoli ma ovviamente c'è tempo per acquistare il biglietto fino al fischio d'inizio per cui c'è la possibilità che questo numero continui a salire fino a domenica alle 4 e 14 perché poi la partita inizia alle 4 e un quarto per il resto questa sera c'è Passione Rosso Verde su Ternana Live la pagina Facebook per parlare di Ternana e anche di Ternana Ascoli e non solo, anche di calciomercato ovviamente per il resto vi segnalo un'ottima iniziativa di beneficenza da parte della Curva Nord che ha organizzato una cena di beneficenza appunto per il 27 di gennaio è possibile avere tutte le informazioni del caso sulla loro pagina Facebook e troverete la località dove si svolgerà la cena il prezzo e poi come effettuare la vostra prenotazione per il resto non ci resta altro che aspettare Ternana Ascoli ricordandoci che Spalluto è un nuovo giocatore del Novara e quindi lascia le ferie e quindi la nostra prenotazione è un'ottima iniziativa di Ternana e quindi la nostra prenotazione è un'ottima iniziativa di Ternana